come potete vedere stiamo scialamente viaggiando nel mezzo del verde in realtà la meta di oggi è ponte delle barche di bereguardo così abbiamo fatto due tappe in una sola giornata anche se al ponte delle barche ci siamo già stati penso che sia l'unico posto vicino abbastanza raggiungibile ed effettivamente ha anche senso il ragazzo con il 125 ha rimesso sul db killer perché abbiamo visto veramente tantissima polizia oggi è il primo giorno di calore intenso che si può dire che ci sia quest'anno e il duke anche lasciarlo fermo non si raffredda oggi è una cosa assurda perché anche in autostrada non mi piaceva così tanto calore quindi magari ha bisogno di una controllata non lo so ti farò sapere a breve ma questo monumento è la prima volta che lo vedo da che non lo so l'anno scorso penso di esserci passata diverse volte di qua è la prima volta che vedo quel monumento lì o sono totalmente rimbecillita io cosa molto probabile oppure l'hanno messo quest'anno è qualcosa di nuovo spero di non dover ripassare sopra il ponte ogni volta lo dico ogni volta mi ci fanno passare vabbè alla fine me le tiro da sola quindi dovrei saperlo ormai no? ragazzi stavo pensando di cambiare il filtro e volevo un po' discuterne con voi effettivamente cambiare il filtro cosa mi dà di più di quello che già ho? perché ho come l'impressione che il calore sia anche dovuto al filtro troppo fitto che non fa passare abbastanza aria e che quindi non raffredda neanche a sufficienza il motore però calcolando che e lo dico in tutta sincerità di motore io non ci capisco tantissimo lo chiedo a voi potrebbe essere una cosa sensata cambiare il filtro per cercare di avere un po' più di aria che entra e mantenere il motore più fresco specialmente in queste languide giornate estive fatemelo sapere in un commento qui sotto sono veramente curiosa di sapere se mentalmente sono riuscita a centrare una cosa con senso intanto le rotonde sono le uniche curve ah sì le stradine di campagna con un po' di ombra che bello con un pochino di curve non estreme ovviamente però almeno non è il solito drittone non è la solita statale decisamente meglio ma è decisamente meglio sì sì poi meglio dipende perché se ti mangi quintali di moscerini come ho fatto io fino adesso è meglio fino a un certo punto anche lì però vabbè ci si accontenta chissà contenta Duke no non è un accontentarsi il Duke stiamo scherzando chissà contenta non è Duke ah curva stronza che chiude all'ultimo bello good to know ma invece di vedere degli begli uccellini sono in giro coronacchia corvi bene ma non benissimo abbiamo anche un fiumiciattolo qua carino un buco che qua lì ho sempre eh ormai non lo dico neanche più sembra che li vado a cercare e lo so che la cosa può risultare estremamente a doppio senso ma ho deciso di fregarmi neanche di questo pazienza hello ci siamo siamo il paradiso dei poveri è questo c'è tutto quello che serve un po' d'acqua i bar il parcheggio le moto e le macchine e quanto si è abbassato santo cielo l'ultima volta che ci siamo venuti era ben più alto tanta roba sempre bello e abbiamo sempre lo percorso uno percorso davanti che non va a una ceppa che ci costringerà a fermarci inutilmente scommettiamo lì proprio nell'ultimo pezzo preciso mi sta distruggendo sto ponte che racchio visto che hanno così tanta clientela ripararlo ogni tanto troppa fatica muoro e dopo aver bevuto il secondo estate della giornata ed essermi rifatta quindi di liquidi che ho perduto sudando mamma mia che caldo che faceva oggi e che strada di merda buchi direi che è arrivato il momento di seguire il navigateur satelliteur per chiudere in bellezza il tutto so che è una giornatina scialla una strada scialla ma vi prometto che la prossima sarà power non so se sarà esattamente il prossimo video però comunque avrà un certo powerness basta parlare l'inglese basta 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 capito che ti sei guardata tre stagioni in lingua originale di supergirl ma basta e noi come navigatore proseguiamo di qua ma proseguite di qua sì allora io torno di là che torna di pieno ok ci sentiamo in settimana ciao ciao buona strada a l'occhio eh anche voi ciao siamo rimasti in pseudo 2 il ragazzo minorenne è andato con i suoi genitori così giustamente ci hanno conosciuti e quindi lo rivedremo ancora sicuramente ma poi perché oggi non chiamo nessuno con il proprio nome non lo so allora si chiama Edoardo il ragazzo con il più che 125 il ragazzo con l'Augusta si chiama Claudio ragazzo con il 390 si chiama Edoardo basta eeeh quanti problemi tutto alla fine giriamo sempre con loro non vedo il problema del dire i nomi è bella sta stradina di campagna ci sono un po' di curve così da prendere mica tanto la leggera perché potrebbero fregarti tipo questa che si chiude sono arrivata dentro forse mi ci sono ci sono arrivata davanti al pelo del 53 allora nada multa ciao natro allora 50 ok dai si è po' a fa' qua dov'è l'altro il terzo deve esserci un terzo alla rotonda girate come trottole frena 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 piega 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 pa via pa via pa via pa via perfetto è da quando sono caduta che ha picchiato per terra che ha problemi col cambio girano i coglioni perché sono soldi da spendere perché quando ti casca la moto per terra quando caschi tu con la moto non è che te lo passa la garanzia no 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 la garanzia non te lo passa tu che mi tagli la strada sei abbastanza ci tenevo che tu lo sapessi anche con quelli davanti a 10 all'ora che non sanno cosa fare dai mi sa che non è la fine del limite no il navigatore no dice che ci sono ancora una cinquantina di metri là lo vedo là qualcosa arancione non volevate mica perdervi lo spettacolo del po così eh per dire e soprattutto di me che faccio fino a che non arriviamo sul po fino a che questo non si spiccia sto perdendo le ovaie sopra sti san pietrini no non ce la può fare non ce la può fare raggiungere i 30 allora ciao fiume che caldo bene ragazzi io come sempre lascio accesare a gopro scusi se succede qualcosa lo potrete vedere e per il momento vi saluto vi do appuntamento al prossimo spumigente video qui sul canale di hp bikers ovviamente come sempre io vi rinnovo la richiesta di seguirci su instagram e di entrare nel gruppo di telegram perché non avete una vaga idea di quanto ci divertiamo in quel gruppo perché siamo uno più scemo dell'altro e poi oltretutto potreste avere la possibilità di organizzare dei giri con noi stando nel gruppo specialmente se siete della zona lombardia diciamo occhio e croce milano pavia alessandria giù di lì insomma quindi niente non dovete fare altro che cliccare il link in descrizione e entrerete nel gruppo ovviamente per il momento vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video e ciao vi saluto 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 vi saluto